Gentili telespettatori, siamo qui per presentarvi un evento che il giorno 15 si terrà prima allo stadio Pignatelli di San Martino e poi nella sala consigliata del comune di Cervinara, vale a dire l'incontro di calcio tra una selezione della Valle Caudina contro l'AS Avellino, squadra che milita il campionato di Serie B ed occupa attualmente la terza posizione in classifica. Un incontro voluto dall'ingegnere Ragucci, che tanto è amico del presidente Daccone, che alla fine è riuscito a convincerlo, a portare la squadra qui nel comune di San Martino e di Cervinara. Diciamo subito che l'Avellino manca in zona dal 1996, quando disputò l'ultima Michele, allora allenatore dei Lupi in Serie B, era mister Paci e dall'attacco c'era Luisa. Sarà sicuramente una giornata di sport, di spettacolo per tutti coloro che vorranno seguire questa gara su User TV, che sarà presente allo stadio per riprendere la gara e le interviste ai calciatori dopo partita.